Ciao ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate like e un commento. Grazie, ciao! Non più 25, grazie. Questo video lo caricherò ovviamente, come io ho promesso. Io non dico mai bugie, non racconto mai balle. Dai, entra. Ciao, segui. Vabbè, segui. Segui, segui, dai, segui. Allora, oh, vieni qua. Si può chiudere la porta? No, non si può chiudere la porta. Eh, ti ho detto di seguirmi. Va bene, ecco qua, brava, brava. Brava la cagnolina, bella. Dai, chiudiamo. Siediti qua. Qua. Ok. Dai. Dici. Ciao. Manco ciao ho detto, scusa. Perché... Ma è lei. Sì, è lei. Dovete sapere che lei forse ha un telefono rispetto più vecchio dal mio, perché il mio è proprio nato nel 2020. Il suo forse è un Samsung un po' vecchio. Samsung, ho detto. E quindi forse non gli prende tanto bene internet. Forse è collegata con qualcuno, perché non gli prende bene internet. E quindi forse scrive lei, però a me mi arrivo dopo un po' perché forse non gli prende internet. A me mi sta prendendo, quindi... A me mi non si dice. A me sta prendendo internet, quindi non è che sono io. E qua dentro si mettono i voti. Vediamo se lei è brava. Perché non so. Oh, mio Dio, si è buggata. C6. No, perché poverino, non è internet forse. Perché questi problemi che succedono quando uno non ha internet su MinWorld. E... E succede così. Io ovviamente con il vetro rotto non vedo un cavolo. Cioè, la parte rotta... Cioè, la parte rotta... Ehm... Beh... Oh... Aspetta... Sto... Aspetta... No, penso che era... Ehm... Sto strando... Ah, poi anche tu scendere il mitro. Sì... Sì... Però... Ora... Non posso... Accenderlo... Perché... Sennò... I... Miei... Fan... Non... Non... Sentono... Vabbè... No, dai... Fanno tanto, però... Dai... Solo per far spiegare chi non sente. Ehm... Dai... Speriamo che... Speriamo che capisce che non posso accenderlo. Perché se... Se lo accendo... Come l'ultimo video... Ho acceso il microfono... E nessuno ha sentito... Per mezz'ora... Mezz'ora no... Perché io... Non ho mai fatto un video di mezz'ora... O di un'ora... Mai... Nella mia storia di youtuber... Mai... 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 Invece Lion tantissime volte... Nelle streaming li facevo... Ma no... Come video... Anzi... Lion fa... I video di minuti... Può rimanere... Allora... Può fare i video... E i video normali... Possono durare al massimo... 28... 29 minuti... 30... Non penso... Penso che non l'ho mai fatto... Anzi... Un'ora... Due ore... Oppure tre ore... Una live di Lion... E quindi... E... Perché... Ci... V... Aspetta... Aiuto... Hai riscritto... Cosa dobbiamo fare? Hai riscritto... Io ho detto... Il prof... E tu è l'alunna... Allora... Vai... A... Sederti... Grazie... Perché per me possono entrare... Che devo... Ah... Allora... E... Ecco... Brava... Sei una bravissima... Brava... E... Fatto... Brava... Lo so... Tranquilla... Ah... Lei non può aprirlo... Cavoletti di Bruxelles... E... 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 Ricle... Azione... Davvero... Capisce... E... No... Sì... Ho un pochino... Ecco... Fatto... Che devo scrivere... Enrique lezione... Ok... Ti... No... Poveretta... No... Per terra... Qua... E qua... Tiene... Tiene... Ah... Sarà preso... E... Tiene... Ok... Ok... Bravo... Mangia... Mangia... Mangi... No... Vabbè... Pure in plurale... Come educazione... Si dice così... Mangi... Signora... Mangi... Così... E... Oppure... Eh... La regina isabetta... Voi siete... La regina che governerà il monomio... Deve uscire... Allora... Ve l'ho detto io... Se non funziona internet... Ti fa pure uscire... Non l'ho capito perché fa sto problema... Vedi... C'è... Stefano... Che si è scritto... E... E... Vabbè... Eccola qua... Ok... Siediti... Che... Ti... Ma... Entra... 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 in questo video questo che ti sto per dire qua nei commenti ciao ciao ecco qua tiena vediamo vediamo davvero mamma mia mamma mia aiuto paura paura così ok siamo a potto e vediamo se lei lo scrive speriamo di sì ovviamente il video durerà di meno perché devo fare una cosa importante e ho cercato proprio il tempo che devo scrivere proprio quello che ci è scritto in quel foglio tu non vali nada no no sto dicendo a te tranquillo che vali di più di me si sa che le femmine valgono di più dei maschi perché cervello di una donna perché il cervello di una donna costa mille euro e il cervello dei maschi costa 100 euro perché il cervello di una donna costa mille euro perché è il più usato e invece quello dei uomini è quello meno usato ah quindi costa di più quello delle ragazze perché è di più usato sì e perché costa di più è perché poi dicono lo voglio io lo voglio io lo voglio io e poi e poi servono soldi e tu mi dai soldi vabbè dai dammi dammi il il commento grazie ah wow ciao e aspetta brava per oggi abbiamo finito no dai brava brava ti voglio un mondo di bene ok sta piangendo perché è così triste no ok non puoi scriverlo dici come te non mi avevi promesso quanti iscritti ti ho fatto con io e poi tu e poi tu mi fai questo video di 9 minuti e agli altri l'ho fatto pure di 7 ma poi proviamo a dire io unico 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 non dico veloce che poi davvero dico la parola io unico io unico io unico e io unico io unico io lo dico veloce e vabbè c'è chi lo dice più veloce vabbè ragazzi spero il video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video domani 100 per cento domani con Ettore e e aspetta con Ettore e e Intellective e Eugène out